E' FINEETAAAAA Vedete che sono un tipo di bot Ok questo qua è un bot questo Anche quello come un bot Sì infatti penso sia un bot tutti e due Tutti e due sono bot Penso Solo il secondo Solo dopo di me non è un bot Siamo in due praticamente Piano di bot questo gioco Pazzesco Vets know how to deal with stupid people Badam Come cazzo andiamo E' vero Eh perchè c'erano tutte le cose qua ma non c'è E' vero che voi avete fatto qualcosa E' vero che sono io Io non le faccio pure io C'è niente Non le faccio io oggi E' vero che sono io Nooo non le faccio oggi Che cavolo dici Guarda tutta la polvere che c'è quello Qui c'è tutta la polvere delle cose per quello Che cazzo c'è Non c'è tra il fatto quello di C'è un'arma E' un'arma buona Me la potrebbe dare però Oh no Oh Vediamo i su di qua Vediamo i su di qua Vediamo i su di qua Ah posso farla giù blu E' vero che Vabbè ce l'avevo bianca Vabbè cazzo cazzo Allora Vedi siamo pure dentro Ci ho azzeccato a sto giro Ehhhh Io andrei Qua Perchè non percettare Ah Ah si No Vediamo i su di qua Follow me Follow me Follow me Checò il cu Oh merda Oh oh non c'è un botto bestia è un segugio è un segugio lusi, lusi non mi piace tanto lusi però a me era meglio il pezzo non c'è ancora gente stanno perdendo di nuovo oh ma chi cazzo non c'era uno qua che stava atterrato da qualche parte meglio forse quello però più questo oh eccola che cavolo fai? ce n'era un altro ce n'era ti ho botto contro botto vada che roba pazzesco ti ho botto contro botto non c'è tanta roba eh oh ma come cazzo gioca il botto però è pazzesco ma come fa? ma fa che sei a sinistra con una persona vera pazzesco intanto beccheremo la squadra che non c'è una botta ci ammazzeranno in sicuro io mi curo vorrei un'arma decente minchia la k me la puoi capparazzi vorrei un banno vorrei un cerchino saranno botto qui saranno però saranno botto che sono botto qui ah ti ho uscito un mirino cazzo si che è un botto fa davanti e indietro cosa che fa? ma può morire però andiamo andiamo vai 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 corre corre comunque li ha certo gioco te l'ho detto è pieno di botte per quello ti dicevo che è pieno di gioco è pieno di gioco potremmo giocarlo come fortnite più o meno è troppo bello questo gioco mato che cosa fare diciamo così questo non è preso un cazzo arrivano di nuovo vado questo sta rianimando no è quello è preso ok mi piace il drop io devo aprire il drop c'era i miei 4 c'era i miei 4 c'era i miei 4 c'era il però la capa da lontano rincula troppo comunque vado a prendere il drop vediamo se riesco vediamo se riesco la partita non c'è nessuno di forte forse forse l'ultimo li bancheremo ancora 31 persone ma quante cavolo di volte sono gli animati chiesti davvero la prima posso essere che presto per dare mi sembra di dare solo alla fine caricatore d'oro è un altro troppo qua non ci credo veramente mi ha dato l'arma quella lì chi è? mi ha dato l'arma è brutta non lo peggio si è brutta è brutta ha dato l'arma che droppa peggio direttamente uno è morto eh che cazzo ha fatto a morire però bombardamente è morto è venuto c'è una shield qui level 4 c'è un muzzle c'è un muzzle che cosa c'è un muzzle c'è un muzzle ma sono al massimo veramente ma non sono al massimo cazzo chi è con l'escensiatore cazzo tre squadre tre squadre nemiche rimaste ha detto a c'è un muzzle ma tutti qua cadono pazzesco ma non è lontano c'è un muzzle c'è un scudo rosso cazzo Airdrop delivered Ecco Oh Cazzo di partita sto facendo Tutti batte è pazzesca Prendiamo quel cazzo di drop Sono tutti batte veramente Sto a partita di questo Eccole Sto a partita di questo 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 Sto a partita di questo